Salve amici, il Vangelo di questa domenica ci propone un passaggio di quel grande discorso che è definito un po' l'ultimo di Gesù e in effetti si viene collocato nell'ultima cena nel quale dice ai suoi che ancora non comprendono tutte le sue parole, sarà lo Spirito Santo a guidare a tutta la verità e in effetti il cristiano è colui che è generato nello Spirito Santo, questo Spirito Santo che prenderà di quello che ha detto Gesù che è dello stesso padre che vivono nella comunione e ci sarà fatto conoscere in tutta la sua ampiezza e profondità. Ecco, il cristiano è colui che si muove in questo abbraccio, è un abbraccio trinitario, potremmo dire questo soffio dell'amore di Dio che viene a noi attraverso il padre e il figlio e in effetti al centro di questa domenica si trova proprio il mistero della Santissima Trinità che più che per disquisizioni teologiche noi possiamo dire qualcosa, balbettare, parlarne per un'esperienza, è come l'amato con l'amata, conosce l'amato chi ama e si lascia amare. Dunque noi possiamo dire qualcosa di questo Dio che è amore, che è padre, figlio e spirito, Santo donazione l'uno per l'altro, comunione delle diversità, soltanto gettandoci in questo oceano. Per noi questo è un motivo di fede, è un atto della nostra fede ma anche un'implicanza morale. Se agissimo tutti sulla logica della Trinità in questo mondo ci sarebbe più comunione e meno odio.